Dato che sono le 10, eccoci benvenuti, aspettiamo un paio di minuti, così le persone si collegano, intanto ben arrivati, ben arrivate. Devi sapere Paolo che molti di loro li conosciamo personalmente perché ci seguono negli anni, alcuni invece sono nuovi, siamo tra l'altro, diciamo, questa è una sorta di introduzione alla formazione online alla scuola residenziale che sarà a fine novembre e stiamo raccogliendo le iscrizioni che scadono proprio il 4 novembre e devo anticiparvi, Mattia non so se glielo ho già detto, che abbiamo tantissime iscrizioni, molto 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 di più rispetto all'anno scorso, quindi siamo molto contenti di questo risultato. Allora, piano piano facciamo entrare tutti? Sì, io credo che, non so Fabrizio, se qualcuno deve ancora entrare, buonasera Adriano che ci scrive in chat. Lasciamo altri magari due o tre minuti di tolleranza accademica, come si può dire. Comunque siamo già a 26. Continuano ad arrivare. Io Mattia sarei per iniziare. Perfetto, apri qui. Ciao 2005, apro solo con un saluto perché l'altra volta non sono riuscita a collegarmi, quindi ci tenevo a salutare tutti voi che siete qui oggi, in particolare Paolo Petrocelli che ringrazio a nome della Fondazione De Gasperi, Mattia Caniglia che è nostro focal point per la geopolitica, che ringrazio non solo per il coordinamento del panel, ma per averci suggerito di invitare Paolo Petrocelli. Io intanto sono contenta di ritrovarvi qua per il secondo incontro della Scuola di Politica EU People. Il primo giorno, sapete, è stato un mercoledì scorso con l'incontro sul tema economico delle sanzioni. Oggi parliamo di geopolitica e di diplomazia musicale. La prossima settimana saremo con la dottoressa Serafini a parlare di giornalismo e politica. Nel frattempo abbiamo la scadenza delle iscrizioni alla scuola residenziale. Anticipavo prima, poco fa, a Mattia e a Paolo che abbiamo tantissimi iscritti, dovremo fare delle selezioni e, come sapete, daremo priorità a tutti quelli che fanno parte della nostra comunità, quindi gli amici della Fondazione De Gasperi, che è una membership, è un gruppo di uomini e donne liberi che credono in Europa Unita. Se volete avere maggiori informazioni, vi mettiamo il link nella chat oppure scriveteci e vi daremo indicazioni appunto su come entrare a far parte della comunità degli amici della Fondazione De Gasperi. Non rubo tempo a Mattia Caniglia e Paolo Petrocelli, che ringrazio e buon lavoro e buon incontro. Grazie a te Martina e grazie a tutto il team della Fondazione De Gasperi, senza i quali, come sempre, non saremo qui e fare questo genere di iniziative non sarebbe possibile. Allora, oggi abbiamo con noi Paolo Petrocelli, che ci parla di Music Diplomacy e Soft Power e mi pare giusto iniziare con un'introduzione di chi è Paolo, manager culturale, docente, ricercatore universitario, ha maturato un'esperienza pluriennale nel campo del management culturale, artistico e musicale in ambito sia nazionale che internazionale, con una versatilità di funzioni e di ruoli che lo hanno portato a contraddistinguersi per un profilo professionale particolarmente innovativo. Già membro del Consiglio di Amministrazione del Teatro dell'Opera di Roma, è attualmente direttore generale dell'Accademia Stauffer di Cremona, istituzione e punto di riferimento in Italia e nel mondo per l'alta formazione musicale dedicata agli strumenti ad arco. Paolo è anche il fondatore e presidente di Emma for Peace, Euro-Mediterranean Music Academy, un'organizzazione per la promozione della diplomazia musicale tra Europa e Medio Oriente, è presidente onorario e cofondatore dell'Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO, più grande organizzazione giovanile all'interno del sistema UNESCO a livello mondiale, ed è anche responsabile del programma di diplomazia culturale e musicale del segretariato permanente del Summit Mondiale dei Premi Nobel per la Pace e, niente poco di meno che, advisor culturale dei Coldplay. Nel 2022 è stato, tra le altre cose, nominato tra le 40 giovani personalità più influenti d'Europa da Team Tank Friends of Europe e inserito da Fortune Italia nella lista dei migliori 40 talenti under 40 italiani come il primo manager culturale ad essere stato selezionato. Insomma, un curriculum che parla da solo e siamo molto contenti di averlo con noi. Prima di dargli la parola, un cappello generale e una questione più logistica, diciamo, perché lo sappiate, la sessione si svolgerà con una presentazione da parte di Paolo che appunto ci parlerà di Music Diplomacy e Soft Power e dopodiché ci sarà uno spazio per il Q&A. Il cappello, l'idea di invitare Paolo nasce da un ragionamento che è semplice ma allo stesso tempo non è del tutto intuitivo. Nel mondo in cui viviamo in questo momento ci sono alcune tendenze a livello di geopolitica e di sicurezza che sono predominanti. Una di queste è sicuramente il fatto che il multilateralismo, cioè quella intenzione a risolvere i problemi del mondo secondo un approccio che coinvolge più attori, siano questi statali, regionali, internazionali, eccetera, eccetera, è in questo momento un po' in crisi. È in crisi perché è tornata di moda la cosiddetta power politics. È quello un po' che vediamo nel contesto del conflitto ucraino ma anche un po' quello che vediamo nel contesto delle crisi di sicurezza in Africa o nel sud-est asiatico o nel grande confronto che si profila all'orizzonte tra Cina e Stati Uniti. In questo contesto mi sembrava utile, come dire, cercare uno spiraglio anche innovativo a come la diplomazia può trovare nuovi modi di comunicare, nuovi modi di portare la gente allo stesso tavolo, condividere iniziative e cercare di migliorare le cose. Insomma, e qui chiudo, Roosevelt aveva un famoso aforisma che diceva la diplomazia dovrebbe essere speak softly and carry a big stick, ma tutto sommato forse con Paolo oggi scopriremo che la diplomazia si può fare anche speak softly and carry a musical instrument. Detto questo, lascio la parola a Paolo e poi ci rivediamo dopo, io vi aiuterò a coordinare il Q&A. Grazie davvero Mattia, grazie Martina, buonasera a tutti. Sono molto contento di essere qui con voi, anche se in questa formula virtuale, ma è per me un'opportunità preziosa di condividere con voi delle idee, dei ragionamenti a cui tengo molto. Devo dire che con questo invito che mi ha rivolto Mattia e la Fondazione, ho scoperto anche più di vicino il grande lavoro che fa la Fondazione De Gasperi, appunto a supporto della formazione, dell'educazione delle nuove generazioni. Questo è un aspetto a cui sono molto legato e quindi davvero con piacere questa sera voglio condividere con voi, lo farò in maniera, premetto, sintetica, rapida anche per i tempi che abbiamo a disposizione, ma voglio condividere con voi alcuni concetti che credo sia importante in qualche modo, quantomeno, come dire, affrontarli anche e soprattutto in una fase così complessa come quella che stiamo vivendo tutti noi in un contesto davvero di comunità globale. Ci riserviamo, sperando di farcela, dieci, magari anche quindici minuti per interagire con tutti voi, quindi assolutamente benvenute, domande, commenti e magari lo facciamo in chiusura di questi due blocchi di presentazione che vi sottopongo. E partirei subito, mi aiuto con delle slide che vogliono essere, diciamo, delle slide più di aiuto, supporto grafico che di concetto quello cercherò di esporverlo io. Dunque, ecco, io credo che ogni volta che ci ritroviamo in queste circostanze come la call di oggi è perché in qualche modo condividiamo un percorso fatto certamente di interessi, ma anche e soprattutto direi di passione. Passione per alcune tematiche, passioni per un certo modo di, come dire, percorrere il nostro cammino sicuramente professionale, ma direi anche di vita. E quindi ecco, mi piace pensare che oggi ci ritroviamo qui, ognuno venendo un po' da un percorso diverso, anche da contesti professionali, accademici diversi, ma che ci ritroviamo questa sera di fronte a queste tematiche condividendo un po' i macrovalori e una grande passione di fondo. Di questo ne sono sicuro. Non mi ripeto su quello che ha detto Mattia e solo per darvi, diciamo, un po' l'inquadramento su quello che è stato il mio percorso che mi ha portato qui da voi. Al di là del percorso professionale a cui accennava Mattia, io, ecco, ho passato un po' gli ultimi trent'anni della mia vita in mezzo agli strumenti. Prima strumenti musicali, prima come musicista io stesso, ho suonato il violino per tanti anni, e poi in seguito come manager all'interno appunto di istituzioni e progetti che si occupano di promozione dell'arte, della cultura, in particolare della musica. Quindi arrivo a voi con questa esperienza professionale e accademica che poi negli anni chiaramente ho integrato anche con, diciamo, degli step di approfondimento delle tematiche più strettamente manageriali ed economiche. Ecco, se io vi avessi mostrato questa slide tre, quattro anni fa, tutti la interpretavamo con un pochino più di serenità. Sì, relazioni internazionali, ovvio, assolutamente quasi scontato che c'è questa dimensione di interazione per lo più pacifica, le volte complessa, ma certamente non conflittuale conflittuale a livello internazionale, no? E questo sta emergendo anche e soprattutto in questi ultimi mesi di come già un po' le nostre generazioni, io ho 38 anni, rimpiangiamo quella che era la serenità che avevamo fino a qualche anno fa quando per noi un conflitto mondiale era qualcosa di archiviato quasi per sempre. Ecco, invece ci ritroviamo di fronte a uno scenario estremamente complesso a cui direi nessuno di noi, come dire, era preparato, no? Sicuramente soprattutto noi della generazione, mi ci metto ancora io, un po' più giovane. Ecco, parlare oggi di questo chiaramente ci pone subito di fronte a questo tema, no? A come interpretiamo le relazioni internazionali. Voi siete molto più esperti di me in questo ambito, quindi tocco solamente questo tema, ma sappiamo tutti che possiamo interpretare le relazioni internazionali e quindi possiamo interpretare quelli che sono le dinamiche di confronto e di cooperazione tra popoli e paesi sostanzialmente in due modi, con un approccio hard e con un approccio soft. Quindi parliamo ovviamente di hard power e soft power, la contrapposizione di due modelli, due impostazioni, due visioni di politica, di geopolitica. È chiaro, da una parte lo sappiamo, abbiamo quello che è l'espressione della potenza, soprattutto militare ed economica, quindi di una potenza, se vogliamo, autoritaria, che chiaramente vuole esercitare, diciamo, un primato sull'altro paese, sull'altra regione del mondo, attraverso appunto l'utilizzo della forza, essa economica o militare. Dall'altra invece, lo sappiamo, abbiamo il ruolo della democrazia, della diplomazia, e quindi di quello che è il concetto di soft power con cui tutti voi sarete familiari. Un concetto che mi piace ricordarlo è stato in realtà messo a fuoco, definito in qualche modo standardizzato solo pochi decenni fa. E questo va, credo, sempre un po' ricordato. Cioè solo pochi decenni fa, dapprima a livello accademico e poi chiaramente a livello politico, è stato in qualche modo fissato il concetto di soft power, perché, appunto, come ben sapete, non è altro che, diciamo, un approccio, un'azione politica con la P maiuscola, direi, che fa leva non tanto sulla forza, appunto, quella, diciamo, davvero ripotente delle sanzioni economiche, della forza militare, ma fa leva soprattutto sulla cosa, sulla creazione di consenso, quindi su una dinamica di interazione il più possibile positiva, che ovviamente non vuole realizzarsi attraverso la coercizione, ma anche e soprattutto attraverso la persuasione. Quindi io che cosa metto sul tavolo del confronto? Metto le mie idee, i miei valori, la mia identità culturale, e lo faccio attraverso l'utilizzo del mio sistema istituzionale, della diplomazia. Ecco, già capite bene, no, che entriamo in una dinamica di confronto più regolato, più strutturato, più pacifico, e noi all'interno di questa dimensione oggi andremo ad osservare una dimensione ben specifica, che è quella della diplomazia culturale. Quindi questo vuole essere solo un rapidissimo cappello a cosa? La diplomazia culturale. La diplomazia culturale cos'è? Come la possiamo definire? Complicato definirla in maniera sintetica e chiara e comprensiva di tutte quelle che sono le sfumature in cui, con cui si realizza diplomazia culturale, ma proviamoci a darla a una definizione almeno di massima per capire di che cosa stiamo parlando. Rigiriamo. Se vedete sopra, no, partiamo già da un'affermazione dicendo che l'incontro fra le culture del mondo e questo incontro si avviene attraverso cosa? Lo scambio e la condivisione appunto, no, di idee, di valori, delle lingue, delle pratiche artistiche, è uno dei fenomeni sociali fondanti della civiltà stessa. Che cosa significa questa frase? Più semplicemente, tu sei del Giappone, io sono dell'Italia, parliamo due lingue diverse, abbiamo due storie culturali diverse, abbiamo tradizioni diverse, valori diversi, ma lì, come dire, ce li raccontiamo, ce li passiamo l'un l'altro in una dinamica positiva, rispettosa, in cui riconosciamo la diversità, ma la diversità rappresenta un valore positivo. Quindi c'è, diciamo, una condivisione il più possibile pacifica di quelle che sono le diverse identità culturali e valoriali di due civiltà, di due paesi, di due nazioni. Se noi lavoriamo su questo processo di condivisione e di scambio di identità, di valori, di pratiche artistiche, di tutto quello che è cultura, ecco, se noi lavoriamo su quello scambio, lo incoraggiamo, lo potenziamo, lo valorizziamo, ecco che stiamo arrivando alla diplomazia culturale. cioè se noi rafforziamo il rapporto, la collaborazione tra paesi in questa dinamica di scambio di informazioni, di DNA culturale, ecco che ci stiamo ponendo su un piano di diplomazia culturale. Cioè stiamo facendo un'azione di soft power che ci consente di entrare in contatto auspicabilmente in una dinamica positiva. Non è che stiamo dicendo ah no, è meglio la mia lingua della tua, tu da domani devi parlare la mia lingua. Ecco, lì rientriamo in una dinamica di colonialismo o non stiamo dicendo no, è meglio la cultura americana, tutto il resto è assolutamente inferiore rispetto a quella che è la nostra identità. Ecco, quello sappiamo che sono degli estremi, non stiamo noi in una dinamica di confronto costruttivo. Ora, è chiaro che se noi lavoriamo all'interno di questa dimensione che è una dimensione, capite bene, no? pacifica di confronto e di interazione, ecco che ovviamente che cosa andremo a favorire? Andremo a favorire il dialogo. Andremo a favorire, si renderà diciamo più maturo, più solido anche questa capacità di rispettare le diversità e auspicabilmente questo processo porterà che cosa? Alla comprensione. Ah, aspetta un attimo, io non sapevo questa cosa di te, della tua storia, del tuo paese, ho scoperto che hai questo genere letterario, questo genere musicale, hai questa tradizione teatrale, caspita, questa cosa mi fa capire meglio chi sei, ti imparo a conoscere meglio e in qualche modo ti comprendo meglio adesso, ora che poi parleremo magari anche di altro, parleremo di economia, di politica, beh, ho chiaro meglio chi sei e quindi se ho chiaro meglio chi sei riusciamo a fare che cosa? Entrare in una dinamica di dialogo addirittura interculturale in cui le nostre due identità culturali non si contrappongono ma addirittura potenzialmente si possono fondere, si possono integrare, si possono creare delle dinamiche di scambio e questo può e deve portare verso che cosa? Una dinamica di sviluppo sostenibile che in ultimo non può che portare a una dinamica di costruzione della pace e capite bene che se tutto questo lavoro che adesso approfondiremo rapidamente noi lo facciamo a supporto di un'azione politica più ampia quindi a supporto di un'azione di cooperazione politica economica a livello internazionale è caspita se il settore della cultura può dare un contributo lo può dare come? Ok? Quindi diciamo tutto questo è in qualche modo una rapidissima introduzione e se volete avete qualche dubbio fermatemi adesso perché è importante questa prima parte sia chiara è un'introduzione a quello che poi andremo a spiegare cioè che cos'è diplomazia culturale nel mondo reale in particolare che cos'è diplomazia musicale però capite bene che ha un ruolo fondamentale la dimensione della diplomazia culturale all'interno di una dinamica di cooperazione internazionale vado rapido quindi salto alcuni concetti vi lascio solo un input e vi rimando per vostra curiosità a questo studio che trovate online che si aggiorna di anno in anno ehm realizzato da uno dei centri più importanti americani sulla public diplomacy e una eh società di consulenza privata la Portland che ogni anno diciamo elabora quest'analisi questo studio in cui attraverso tutta una serie di parametri questi quanto un paese è sviluppato a livello di infrastruttura digitale quanto riesce a promuovere la sua cultura nazionale in un'ottica globale quanto è solido a livello di sistema eh dell'istruzione quanto le i diritti la democrazia sono tutelati all'interno del proprio paese ecco secondo tutti questi parametri ok quindi dati diciamo oggettivi e dati in qualche modo eh un pochino ehm più più ampi come può essere ad esempio no eh la qualità della vita quanto eh benessere in alcuni settori strategici c'è e così via ecco mettendo a sistema tutto questo questi signori sviluppano una lista nazionale questa vedrete fa riferimento qualche anno passato dei paesi che più diciamo riescono a utilizzare esprimersi meglio con il soft power ecco è interessante vedere che già nel duemiladiciannove diciotto vediamo chi è l'ultimo della lista ok in questo studio che ovviamente non è uno studio diciamo che possiamo prendere a riferimento scientifico ma ci fa già capire rapidamente chiaramente vedete in alto alcuni paesi occidentali altri paesi anche paesi asiatici come ad esempio il Giappone ma vediamo già in fondo alla lista alcuni paesi che ahimè sono molto no discussi per non ricorrere quantomeno spesso all'utilizzo del soft power e qui vi lascio anche il link così potete approfondire questi temi se ne avete piacere ora solo per vostra diciamo il vostro riferimento la diplomazia culturale è certamente un'espressione di soft power ma la diplomazia culturale fa parte di una categoria del soft power un pochino più ampia diciamo che c'è un contenitore attorno se volete alla diplomazia culturale che è quella che viene definita la public diplomacy la diplomazia pubblica all'interno della quale noi troviamo anche la diplomazia culturale queste se volete sono scatole concettuali ma è importante fare riferimento a questi a questi temi che sono molto vasti quindi li accenniamo solamente ma la public diplomacy no? che cos'è? è sostanzialmente la gestione dell'immagine nazionale no? quindi come l'Italia la Russia l'Ucraina gli Stati Uniti si proiettano verso il proprio i propri cittadini verso la propria comunità nazionale verso la comunità internazionale no? quindi è chiaro che l'Italia storicamente poi c'è un po' di cambiamento diciamo di governo in governo ma storicamente si proietta come un paese democratico proiettato in Europa al lato al fianco della Nato quindi diciamo sono tutti i pilastri sulla quale si fonda l'immagine nazionale del nostro paese sia a livello di comunità nazionale europea ma anche a livello di comunità internazionale e all'interno di questa diciamo azione di diplomazia pubblica quindi di come l'Italia parla al mondo è chiaro che ritroviamo ancora una volta la diplomazia culturale no? in qualche modo anche questa è una forma di diplomazia pubblica di come gli Stati Uniti parlavano al propri cittadini no? nel periodo della seconda guerra mondiale quando dicevano il paese zio Tom ha bisogno di te voglio te ok? questa è una scelta anche di come comunico la mia identità nazionale nei confronti dei miei cittadini ritorniamo alla diplomazia culturale e ci avviciniamo al tema della serata che però è importante inquadrare rapidamente con questi concetti se noi abbiamo detto la diplomazia culturale non è altro che questa operazione che aiuta incoraggia potenzia facilita l'incontro tra le culture del mondo beh capiamo allora che ci troviamo di fronte a uno scenario vastissimo se parliamo di cultura no? parliamo certamente di patrimonio e beni culturali quindi tutto quello che no? è in qualche modo secondo ad esempio la definizione dell'UNESCO patrimonio tangibile no? un luogo storico un monumento qualcosa che esiste in materia no? beni culturali patrimonio culturale ma ovviamente è anche tutto quello che è patrimonio culturale immateriale quindi tutte le arti performative la musica la letteratura la danza insomma ci troviamo di fronte a una complessità di linguaggi enorme ma anche estremamente affascinante ovviamente se parliamo di cultura non possiamo che parlare anche di formazione istruzione quindi di educazione quindi capite bene che se parliamo di diplomazia culturale dovremmo affrontare tante tante sfaccettature tanti tanti tasselli di questo di questo ambito capiamo però chi può fare chi fa diplomazia culturale in tutti i diversi ambiti no? beh anche qui abbiamo una pluralità di soggetti potenzialmente tutti possiamo fare esperienza di diplomazia culturale partiamo dal basso come cittadini ad esempio tutti noi come volontari come studenti come cittadini attivi parleremo di cittadinanza attiva tra poco possiamo essere impegnati in azioni di diplomazia culturale possiamo fare diplomazia culturale in un ambito accademico se volete questa sera siamo un po' in questa casella no? ne stiamo parlando un po' in una dinamica accademica di formazione e quindi certamente può fare diplomazia culturale un docente un professore un ricercatore no? che parla scrive studia diplomazia culturale professionisti manager culturali operatori culturali persone che gestiscono progetti culturali certamente possono fare attività di diplomazia culturale ma anche in una dinamica invece di organizzazioni e qui figuriamoci dalle NGO alle associazioni alle istituzioni ai governi si può fare diplomazia culturale a livello associativo in un quartiere di una città fino ad arrivare a fare diplomazia culturale come governo come paese e quindi se siamo in quella dinamica istituzionale beh ovviamente i diplomatici no? è ovviamente nel concetto stesso quindi gli ambasciatori gli attasce culturali i funzionari di un'ambasciata di un istituto di cultura se parliamo dell'Italia e così via fin ultimo e questo è l'ambito anche che oggi in qualche modo esploriamo brevemente gli artisti ed è questa la cosa molto affascinante cioè l'esperienza di diplomazia culturale si può vivere da un'esperienza istituzionale fino ad arrivare a un'esperienza davvero artistica perché? perché si si utilizzano gli stessi linguaggi artistici per attivare quel confronto quella dinamica no? positiva d'incontro di cui parlavamo prima e quindi la lista è lunghissima dai musicisti attori attrici scrittori scrittici chi più ne ha più ne metta tutti colori quali utilizzano i linguaggi dell'arte introduciamo un altro vi sto lasciando tanti concetti importanti poi magari attraverso Mattia vi lascerò queste slide così come dire se avete piacere avete un riferimento non so perché ci siano queste due graffietti rossi ma spero che non vi vengano troppo fastidio ma comunque arriviamo quindi a un altro concetto seguitemi stiamo parlando di diplomazia culturale abbiamo capito che io davanti a me ho un ventaglio importante di ambiti dall'ambito civile sociale fino all'ambito istituzionale diplomatico e abbiamo capito che all'interno di questa diciamo dimensione io posso utilizzare diversi linguaggi appunto i linguaggi della musica i linguaggi della letteratura della danza del teatro del cinema eccetera eccetera introduciamo però quest'altro concetto cioè che succede se queste istituzioni questi ambasciatori culturali esercitano un livello di influenza tale quasi come se fossero dei leader cioè che la loro azione si trasforma per attraverso la loro capacità la loro potenza la loro capacità di ingaggiare diversi stakeholder si eleva a leadership è fondamentale questo concetto cioè la diplomazia culturale quando la sua azione è un'azione prorompente in senso buono positivo cioè prorompente in maniera costruttiva in maniera positiva molto spesso diciamo emerge un altro aspetto un aspetto che è legato alla dinamica della leadership cioè di come un artista un ambasciatore un'organizzazione riesce ad essere influente e l'influenza si trasmette si esprime attraverso questa leadership può essere una leadership manageriale imprenditoriale politica ovviamente ma può essere anche una leadership più strettamente artistica ecco che ora entriamo un po' più e ci avviciniamo al secondo tema della nostra del nostro incontro chi è questo signore c'è scritto sotto sono sicuro che un po' tutti voi lo conosceranno lo conoscerete John Lennon il famoso famosissimo iconico musicista fondatore di una delle più grandi band di sempre i Beatles ma molti di noi lo conoscono anche per essere stato quello che davvero potremmo definire un leader culturale cioè un artista capace di elevarsi e diciamo uscire se volete un po' da una dimensione passatemi il termine di entertainment in cui la musica in qualche modo è limitata anche se limitata è un termine forte è limitata a far cosa a esercitare un'influenza positiva sulle persone soprattutto a livello di emozioni una canzone dei Beatles sono sicuro che tutti quando mettiamo twist and shout ci sentiamo allegri scateniamo balliamo ecco quello è una dimensione assolutamente straordinaria della musica definirla appunto di entertainment è riduttivo ma è per spiegarvi il senso ecco John Lennon a un certo punto della sua carriera come musicista ragazzi come artista non come politico non faceva l'ambasciatore faceva l'artista ha compreso che cosa la sua capacità di leadership la sua capacità di influenza la sua capacità di utilizzare il linguaggio della musica per fare altro al di là che riempire le sale da concerto che far scatenare il suo pubblico ballare o emozionarlo se era una canzone che parlava d'amore no? ed è stato davvero una delle figure chiave per consolidare in maniera definitiva questi concetti di cui stiamo parlando la diplomazia culturale nel suo caso musicale e il concetto di leadership culturale ovviamente tutte tematiche che lui come dire non si sentiva proprie che in quegli anni ricordiamoci il concetto di soft power è stato messo a fuoco negli anni 90 stiamo parlando degli anni 60 70 quindi lui non è che la viveva come dire ah sì sto facendo diplomazia culturale ah sì questo è il soft power no lui diceva io sono un artista sono un musicista ma ho capito che posso parlare al mondo ho capito che tramite le mie canzoni posso scuotere l'opinione pubblica la società le istituzioni posso metterle in maniera più diretta forte efficace di fronte delle sfide no? e questo l'ha fatto in una maniera davvero prorompente e se vedete era anche molto molto diciamo in avanti John Lennon per quello che è la capacità di utilizzare alcuni strumenti come ad esempio la comunicazione e il marketing vi ricordo parliamo di anni 60-70 no social media no internet ok? quindi tv radio stampa cartacea ecco lui era molto consapevole di come utilizzare questi mezzi per sollecitare l'opinione pubblica ovviamente non è solo John Lennon ci sono tanti altri esempi qui scorro perché se no davvero il tempo poi già sta correndo ma capite bene che è un tema vastissimo no? e questo questa presa di posizione da parte di grandi artisti di dire certo io faccio i dischi faccio i concerti ma ho capito che ho creato un rapporto di fiducia trust con chi? con l'opinione pubblica quindi attraverso di me artista in questo caso musicista posso arrivare a esprimere dei concetti che magari sono concetti portati avanti dalle istituzioni dalle organizzazioni internazionali no? questo signore conoscerete Bono artista leader della famosa band U2 U2 è lo sappiamo in prima linea ormai da decenni al fianco anche di grandi organizzazioni internazionali e qui dovremmo aprire una piccola valentesi ma lo accenno solo di come le grandi organizzazioni internazionali fra tutte le Nazioni Unite l'UNESCO l'UNICEF diciamo avvicinano hanno bisogno di grandi artisti musicisti per arrivare di più alle persone ai cittadini per comunicare meglio ecco quindi che capite bene queste figure sono sia artisti sia musicisti ma sono in qualche modo ambasciatori culturali della diplomazia culturale cioè attraverso il linguaggio della musica esso può essere cantato ma anche parlato no? qui abbiamo un cantante che parla non sta cantando in questa foto per capirci no? ma utilizza un linguaggio ecco dolce un linguaggio ancora una volta che si rifà al soft power no? non è un politico quindi non ha non esercita quel tipo di leadership esercita un tipo diverso di leadership sulle persone sull'opinione pubblica ed ecco che è un vero e proprio leader culturale vado rapido ci sono tanti esempi che potremmo fare Pavarotti è stato certamente uno straordinario ambasciatore culturale no? questo cantante lirico tenore che riempiva i teatri d'opera che molto spesso vengono no? identificati come il luogo più distante più di nicchia più elitario della nostra società qui abbiamo un cantante lirico che riempiva i teatri di tutto il mondo che univa le forze con le più grandi organizzazioni internazionali per far cosa? per promuovere ad esempio delle delle cause umanitarie esattamente Pavarotti in France Mattia no? cioè ha creato una serie di progetti in cui ha coinvolto decine e decine di artisti internazionali che si esibivano cantavano suonavano per fare che cosa? per raccontare al mondo dei problemi delle sfide delle urgenze e quindi per fare che cosa? per aumentare il livello di consapevolezza su alcuni grandi problemi e lo faceva chi? un cantante lirico pensate un po' e lo faceva utilizzando il linguaggio dell'opera no? incredibile verrebbe quasi da dire ovviamente stiamo parlando di musica ma capite bene che questo vale poi per il cinema ci sono attori attrici che verrebbe da dire mettono la faccia su alcune grandi sfide alcuni grandi temi e lo fanno unendo le forze con alcune grandi organizzazioni internazionali o con piccole NGO o creano la loro fondazione perché qui poi ci sono mille scenari allora scusatemi se vado rapido ma come capite sono tanti temi chiudo questa presentazione non avendola finita ma la condividerò quindi c'erano altri temi passo nel mentre al tema più specifico di questa sera che è la diplomazia musicale se nel mentre avete qualche commento qualche domanda che volete sì sicuramente ragazzi se ci sono se c'è un qualche domanda un paio di domande mentre Paolo fa lo switch tra presentazioni le prendiamo volentieri alzate la mano tramite lo strumento in basso grazie Adriano non c'è bisogno che ve lo spiego Adriano se vuoi accendere la telecamera e porre la domanda a tu stesso noi siamo contenti sì buonasera si sente l'audio? sì sì ecco bene no mi sento di aggiungere qualcosa perché io sono un cantante lirico per l'appunto professionista quindi sono per l'appunto sto frequentando questo corso e stasera ho delle prove di una bohème di Fuccini quindi pensiamo un po' no vorrei aggiungere anche un'altra cosa vorrei aggiungere che parlando di Pavarotti giustamente Petrocelli ci ha detto che è un po' un'occasione anche di di ribadire il concetto che Adriano sei in muto è stato in muto Adriano sì pronto? mi sento adesso sì ribadire il concetto che l'opera lirica il teatro lirico non è quella attività o quel genere di nicchia che è assolutamente lontano dal mondo terreno si può dire così oppure che riguarda soltanto una certa elite invece no ma e mi preme anche invadire una cosa quando noi facciamo una produzione operistica per esempio ho fatto una Butterfly a Torre del Lago in cui l'ottanta per cento del cast è asiatica quindi giapponese cinese coreana quindi e parlano italiano e studiano l'italiano studiano il canto italiano studiano la lingua italiana e ci confrontiamo con tante cose ci confrontiamo con le loro culture con le loro cioè anche secondo me una un'attività di diplomazia la può fare la stessa come si suol dire lo stesso praticare la musica insieme lo stesso praticare ricordiamo che l'opera lirica viene quella Giuseppe Verdi Puccini Macchi Mozart eccetera eccetera Adriano ti pregherei di rimanere però in determinati tempi perché si si viene rappresentata in tutto il mondo grazie Adriano guarda appunto figurati hai toccato un tasto che starei qui a parlarne tutta la sera ma mi hai dato il là per passare proprio alla seconda alla seconda parte quindi condivido e procedo giusto una nota a margine questa cosa dell'opera come dire del mondo di alcuni eletti mi fa sempre battere l'occhio forte perché noi ci abbiamo fatto l'unità d'Italia con i teatri che tiravano che dalle balconate tiravano le candine dell'unità d'Italia quindi insomma è importante ricordarsi che non è proprio appannaggio di pochi anzi sicuramente non dovrebbe esserlo unisco queste due input che stai dando tu Mattia e che ha dato Adriano cioè la musica ovviamente vado una slide indietro ne approfitto citando un caro amico che tutti conoscerete che purtroppo ci ha lasciato come sapete no? la musica ovviamente si fa insieme e quando Ezio diceva questa frase che cosa intendeva? che non si fa insieme solo dal punto di vista chiaramente performativo no? ma la musica crea di per sé una comunità di ascoltatori di pubblico di appassionati di curiosi cioè il teatro una sala da concerto ci mette in una condizione di comunità con una serie di persone che non conosciamo che non abbiamo mai visto ma si rispettano delle regole in maniera pacifica più o meno pacifica poi ovviamente ci sono sempre le eccezioni di come si condivide quel momento quell'esperienza no? siamo in una sala di teatro condividiamo tutti insieme questa esperienza di sentire questo concerto siamo in uno stadio balliamo danziamo ma siamo qui insieme e condividiamo no? un momento di pieno di emozioni che in qualche modo ci eleva un po' tutti no? ogni volta che andiamo a un concerto esso può essere di classica di rock pop hip hop quello che volete voi insomma stiamo bene no? usciamo fuori che abbiamo vissuto insieme tutta una serie di emozioni forti e arriviamo allora al tema di questa sera dieci minuti e poi ci prendiamo cinque dieci minuti per fare insieme due chiacchiere la musica si fa insieme no? vedete un'orchestra io ho suonato per tanti anni un'orchestra un'esperienza splendida che ti forma proprio come essere umano anche proprio per quello che diceva Adriano immaginate no? un'orchestra fatta di persone diverse e che chiaramente possono venire anche non solo da città ma da paesi diversi che suonano strumenti diversi che però assieme creano una piccola comunità no? creano una piccola medio piccola formazione che esprime tanto attraverso la musica e che interagisce con centinaia a volte migliaia di persone pensate a una sala di teatro no? e questo vale per un'orchestra ma vale per un coro vale ovviamente in una dinamica professionale ma può valere anche in una dinamica amatoriale vale in Europa vale negli Stati Uniti ma può valere anche chiaramente in altre parti del mondo vale per quella che definiamo musica classica ma poi lo sappiamo se parliamo di esperienze condivise del fare musica insieme il pop il rock tutto quello che è una band no? e ritorniamo ai nostri amati Beatles e insomma attraverso un nucleo più o meno grande di musicisti noi entriamo in contatto a volte con il mondo e questo ripeto è vero in una dinamica occidentale ma non ci dimentichiamo che noi stiamo facendo questo ragionamento dall'Italia dall'Europa ma questo ragionamento può essere assolutamente fatto con diciamo un'altra angolazione in Asia in Medio Oriente la musica è una esperienza assolutamente globale condivisa sostanzialmente in tutti i paesi del mondo dobbiamo essere ben consapevoli spesso diciamo no la musica è un linguaggio universale vero però un conto è il linguaggio musicale occidentale ad esempio altra cosa è il linguaggio musicale orientale o arabo ok quindi è importante sapere che c'è una diversità una ricchezza dei linguaggi musicali ma certamente la musica ha questa capacità di penetrazione in tutte le comunità del mondo e soprattutto unisce le persone le unisce sul palco quindi in una dinamica performativa ma le unisce anche in una dinamica diciamo di esperienza di quello che si potrebbe dire engagement no io suono tu ascolti lo posso fare dal vivo lo posso fare attraverso una dinamica registrata quindi no un cd la radio la tv il web la musica digitale e così via no ecco capiamo bene vado rapido su concetti molto importanti ma sono sicuro che mi seguite capiamo bene che quindi la musica ha una straordinaria capacità di creare impatto sociale e ritorniamo al nostro bono no perché la musica può cambiare il mondo perché può cambiare le persone uno dice eh vabbè sì Petrocelli non esageriamo stai calmo immaginate però sia nella nostra esperienza personale individuale ognuno di voi sono sicuro che ha due o tre canzoni che insomma gli hanno un po' cambiato la vita no perché è nato un amore e avete legato una canzone o perché è finito un amore ne avete legato un'altra avete una canzone che è legata alla memoria di una vostra persona cara che non c'è più cioè lo sappiamo quanto la musica ci accompagna come una vera e propria colonna sonnata della vita e ci aiuta no a sottolineare momenti importanti difficili belli lo sappiamo la musica ha questa capacità di trasformarci quindi certamente la musica può cambiare le persone come lo può fare in tanti modi ora faccio veramente cenni rapidi lo può fare attraverso ad esempio l'educazione musicale è certo che se se noi abbiamo l'opportunità no di imparare questo linguaggio in maniera più o meno avanzata anche in maniera amatoriale suonare diciamo no come si potrebbe dire strimpellare no uno strumento lo sappiamo che entrare in contatto con il linguaggio della musica è una cosa forte a volte è complesso magari tutti noi un po' da piccolini abbiamo cominciato a suonare lo strumento che fastidio che noia non riesco a suonare bene troppo complicato però per chi di noi è andato avanti un pochino a quel livello di difficoltà quando poi riesci a esprimerti non solo a parole ma magari con un brano sulla chitarra se sei più o meno intonato a cantare a mettere le mani su un pianoforte è caspita hai modo di entrare in contatto con le persone attraverso un altro linguaggio che non è quello parlato e quindi su questo in tante parti del mondo in tanti decenni diversi si è fatto leva cioè su come l'educazione musicale può cambiare a volte il destino non solo di una persona ma addirittura di una comunità fino anche di un paese cioè il solito esempio e ho sempre piacere di riportarlo lo dico solito perché è proprio un punto di riferimento questo questo esempio di quello che è definito il sistema no? il sistema che cos'è il sistema? è un modello educativo di educazione alla musica sviluppato nel Venezuela semplice musica paratodos cioè in un contesto di disagio sociale molto molto diffuso come in Venezuela dove ci sono intere comunità di giovani giovanissimi sostanzialmente senza futuro per altissimo livello di povertà analfabetismo eccetera si è creato cosa? una piattaforma che avvicina fin da piccoli migliaia ma si è arrivati fino a milioni di giovanissimi cittadini venezuelani a imparare a suonare lo strumento ma come? assieme diventi parte di un'orchestra ti do uno strumento ti insegno a suonare lo strumento e ti insegno a far parte di un'orchestra un'orchestra che accompagna la tua crescita individuale di persona di cittadino fai parte di una comodità sei importante ti esprimi ti insegno a esprimerti attraverso un linguaggio che è un linguaggio appunto è un linguaggio come dire gentile quello della musica quindi è difficile che se tu sei abituato a stare in orchestra a suonare lo strumento a fare musica poi esci prendi una pistola e vai a fare una rapina è un po' complicato tutto può succedere no? ma capite bene che se ti abituo a passare le tue giornate in un contesto come in questa foto è molto difficile che poi vai a fare un atto criminale soprattutto se ti accompagni ad esempio verso un lavoro con la musica e qui ci sarebbe tanto da dire in altri paesi del mondo Medio Oriente Egitto dove sappiamo c'è una situazione molto complessa a livello sociale anche e soprattutto per le donne hanno creato un progetto di un'orchestra tutta femminile di giovani donne disabili non vedenti quindi immaginate sei una giovane donna non vedente che possibilità hai di esprimerti e di come dire avere un ruolo positivo nella tua società in un contesto complesso altamente complesso beh questo progetto ha reso protagoniste queste giovani donne non solo in una dinamica nazionale ma anche internazionale ci sono tantissimi esempi ora vado rapido Sud America dall'Uruguay al Paraguay dove addirittura c'è il problema va bene facciamo un'orchestra ma non abbiamo i soldi nemmeno per fare gli strumenti a volte non si trovano neanche gli strumenti musicali ah aspetta abbiamo un altro problema però in più non solo c'è la povertà c'è il disagio ma c'è anche ad esempio un problema ambientale rifiuti sai che c'è? costruiamo gli strumenti musicali con i rifiuti come vedete qui quindi no quello che è un problema per una comunità diventa un'opportunità diciamo si rende un elemento negativo positivo e lo si ingloba all'interno di un progetto di educazione musicale ecco prendiamo questi due concetti che stiamo affrontando rapidamente musica e impatto sociale musica ed educazione se tutto questo lo proiettiamo in una dinamica internazionale di diplomazia culturale quello che diciamo prima cioè utilizziamo la musica come strumento per confrontarci tra popoli e culture capite bene che abbiamo una grande opportunità questa è la definizione in inglese la traduciamo come potremmo definirla la diplomazia musicale? certamente una forma di diplomazia culturale e che cosa può fare? beh ce lo siamo detto se la musica questo linguaggio che consideriamo universale se invece di esprimermi in italiano parlando con un giapponese utilizzo il linguaggio della musica quindi un progetto che ha a che fare con la musica capite bene che cosa faccio già sto già interrompendo quella che è la barriera culturale sulla lingua già quello lo togliamo e utilizzo il linguaggio della musica all'interno di un progetto ovviamente non è semplicemente facciamo una canzone insieme no? non è questo ma utilizzo il linguaggio musicale come perno per fare un progetto che promuove cosa? la cooperazione e ancora una volta no? il mutuo la mutua comprensione il mutuo rispetto e ancora una volta stiamo arrivando verso un obiettivo importante quello della diciamo della promozione della cultura della pace della coesione tra popoli e persone ultimi dieci minuti esattamente Daniela infatti ci sono tanti esempi ora vi do solo in questi ultimi dieci minuti qualche flash poi ci prendiamo cinque minuti in chiusura per commentare scusate ma sono temi come anzi io direi che ci possiamo anche allungare un po' per quanto li comprimo non voglio neanche insomma andare troppo banalizzare troppo tranquillamente prendiamoci un dieci minuti più allora vi faccio vedere adesso delle foto che ci fanno vedere in una carrellata come gli artisti e quindi ritorniamo vi ricordate chi sono gli ambasciatori culturali artisti ecco ora analizziamo un attimo quella dimensione e lo stiamo facendo per gli artisti musicali quindi i musicisti come si può utilizzare il linguaggio della musica in contesti diversi complessi in cui c'è bisogno di parlare alla propria comunità e parlare al mondo vediamo un po' come si fa questa foto non vi chiedo vi avrei piacere di chiedere a voi di commentarla ma vado rapido siamo in Iraq Baghdad durante gli anni del di Daesh che hanno scombinato il Medio Oriente in particolare la Siria l'Iraq innesima attentato autobomba questo signore vedete sta facendo un atto un po' curioso se volete vestito anche di tutto punto con Jack eccetera con il suo violoncello si è messo a suonare proprio nel luogo dove poco prima perché vediamo è ancora tutto molto magari il giorno prima è ancora tutto molto scombussolato quel contesto dove è scompiata la taumbomba si è messo a suonare uno potrebbe dire ma che stai facendo ma togliti no? beh lui è un cittadino di quella comunità e lui sta dicendo qui abbiamo stravolto attraverso il terrorismo la violenza abbiamo stravolto la stabilità di questa nostra comunità di questa città di questo quartiere io che posso fare? certo non sono un politico non sono un diplomatico non sono un basciatore io faccio musica sono musicista lui è il direttore dell'orchestra nazionale dell'Iraq in più è violoncellista sai che c'è? vengo a parlare e vengo a urlare ma con il mio strumento e utilizzo la musica e lo faccio consapevole di arrivare o almeno questo è il mio obiettivo alla mia gente per dire basta il linguaggio no? delle armi della violenza il rumore delle bombe basta morte basta no? riprendiamoci la nostra comunità io ci sono come cittadino come musicista come artista ci sono voglio dare il mio contributo ovviamente non è che si limita a suonare no? capite bene che questo è un atteggiamento è una parte del suo impegno se volete quella più fatemi dire forte plateare no? ma certamente questi questi artisti sono impegnati poi in una serie di progetti molto concreti andiamo qualche decennio indietro no? caduta del muro di Berlino forse avete visto questa foto uno dei musicisti più straordinari del secolo scorso Rostropovich violoncellista russo che ha passato gran parte della sua vita fuori dall'Unione Sovietica perché appunto in contrasto con il regime nelle giornate più no vibranti in cui stavamo crollando il muro questo signore ha preso il suo violoncello e è andato a suonare lì perché? lo ha fatto perché doveva fare la diretta Facebook e farsi vedere da tutti? ovviamente no non c'era negli social media non c'era quel tipo di comunicazione lo ha fatto quindi con una consapevolezza è un momento straordinario di svolta e io metto a disposizione la mia voce di artista il linguaggio della musica che va al di sopra di no? Berlino Est Berlino Ovest Russi Tedeschi americani no? io suono una suite di Bach che in qualche modo dovrebbe arrivare a tutti voi a tutti noi e lo faccio per sottolineare l'importanza di questo momento in cui anche noi anche la comunità artistica può e deve giocare un ruolo deve facilitare no? vi ricordate quello che dicevamo prima? facilitare accelerare questa dinamica di cooperazione di collaborazione fantastico sta per colare il muro ci stiamo per riunire la musica anche ci aiuterà a riunirci e questo è vero in un contesto di appunto ricostruzione di una dinamica politica la caduta del muro di Berlino di un attentato terroristico di una guerra di un conflitto il conflitto ad esempio Jugoslavia no? Serbia-Jugoslavia questa foto anche fece il giro del mondo violoncellista serbo che si è visto nel giro di un anno e mezzo stravolta la sua comunità come sta succedendo ai cittadini ucraini e che cosa ha fatto? con il suo frac musicista primo violoncello della dell'orchestra è andata a suonare nei luoghi della distruzione per far cosa anche lì una diretta Instagram aveva bisogno di no? c'era diciamo un valore non solo altamente simbolico sì hai distrutto questo luogo ma non hai distrutto la comunità la dignità delle persone quella c'è siamo qui e la difendiamo non solo ovviamente con un'azione politica ma la difendiamo anche con una dimensione con un'azione culturale io sono un artista sono un musicista sto qui a difendere la mia identità che è un'identità di paese di popolo fatta anche di cultura e io la celebro la celebro anche in un momento in cui non c'è il teatro non c'è un sipario non c'è il pubblico ma la devo celebrare perché non possiamo permetterci di perdere quella parte di identità e la stessa cosa viene da dire in maniera curiosa ma non è curiosa è proprio no una spinta che arriva dal di dentro di tanti musicisti tanti artisti in tante parti del mondo giovane cittadino Siria sempre gli anni drammatici della guerra civile 2015 2016 14 15 16 giovane pianista non concertista internazionale un giovane che aveva un pianoforte a casa che un po' suonava decide di portare vai a capire se decide di portare o già se l'era ritrovato per strada questo pianoforte perché vedete bene qual era la condizione delle abitazioni dietro e di suonare in questo caso c'erano già i social media in quegli anni questo video di questo giovane in una mi sembra leppo completamente devastata in cui faceva risuonare la sua voce il suo pianoforte tutto stonato fece il giro del mondo e arrivò anche in maniera ancora più forte più emozionale a milioni e milioni di persone in giro per il mondo che nel vedere un giovane suonare cantare in un contesto di distruzione totale era una cosa un contrasto troppo forte se noi vediamo delle scene di distruzione ovviamente ci sentiamo male questo a prescindere anche un terremoto capiamo che c'è qualcosa che non va ma se ci associamo a quell'immagine di distruzione di desolazione di morte un linguaggio che noi di solito associamo con la bellezza con qualcosa di positivo e ne capiamo tutta la l'antitesi che c'è tra la vita la pace la morte la violenza la distruzione e questo lo vediamo ripeto in tante situazioni qui siamo a Parigi di fronte al Bataclan in quella giornata assurda impensabile che tutti noi purtroppo ricordiamo dell'attentato appunto al Bataclan la mattina dopo questo pianista porta il suo pianoforte a coda di fronte al Bataclan per suonare Imagine di John Lennon e uno può dire ma forse anche un po' inadeguato però guardate che cosa si crea tutti i giornalisti ovviamente chiaro c'è una dinamica non lo possiamo nascondere anche no come dire performativa che ha sempre il suo fascino fatemi dire no ora non vorrei neanche essere troppo ingenuo però c'è in realtà una dinamica di rispetto ancora una volta e di fiducia immaginate se un giovane fosse andato lì a dire no ascoltatemi questo evento è terribile uno dice scusa ma tu chi sei? no sono solo un cittadino ah va bene non ci interessa aspetta che arriva il premier parla intervisto lui qui tutta la stampa tutti i media zitti ad ascoltare a riprendere chi? un musicista non è importante se è famoso o no la musica va oltre le parole lui parla per noi ascoltiamo no? sta suonando una canzone che sì è proprio quello di cui abbiamo bisogno tutti noi parla tu adesso stiamo zitti no? e questa dinamica è vera? in tanti contesti anche di manifestazioni accese se pensiamo ad esempio agli anni delle cosiddette primavere arabe no? in cui piazze piazze gremite dalla Tunisia l'Egitto la Turchia eccetera a un certo punto spesso spunta un musicista un artista e guardate queste scene no? in una piazza gremita potete immaginare no? lo sentiamo il rumore delle voci di questo tutti che dicono una cosa che parlano che urlano che strilla la polizia le sirene eccetera eccetera a un certo punto c'è il rispetto di una folla zitti tutti sta suonando no? e il musicista che in qualche modo sta elevando tutti noi comunità fa sintesi di tutto quello che stiamo dicendo parla per noi ecco la dinamica del leader culturale no? della leadership questo è un leader che quasi stiamo più zitti di fronte a lui che è un politico no? e poi ovviamente ci sono tante manifestazioni di questo pensiamo in Ucraina queste a me sono foto non recenti ma più vecchie dove c'era già una cosa sappiamo negli ultimi anni no? una dinamica molto tesa in Ucraina e anche lì in più occasioni c'è stato questo chiudo datemi due minuti e solo per fare un accenno a questo adesso abbiamo fatto una carrellata rapidissima di cosa di come i musicisti gli artisti possono entrare in delle scene anche complesse di violenza di terrore di guerra e possono essere non fuori luogo ma possono addirittura essere dei protagonisti positivi che aiutano a ristabilire certo non a risolvere ma aiutano a ristabilire a contribuire a ristabilire le cose quantomeno una dimensione di umanità questo è fondamentale chiudo facendo riferimento a questo pensiamo a quanto la musica non solo nella sua dimensione dell'educazione musicale dell'impatto sociale della leadership culturale ma pensiamo anche più semplicemente facevamo accenno prima a quanto la musica sia in grado di unire di richiamare le persone e questa cosa l'abbiamo capita anche e soprattutto a partire dagli anni sessanta settanta quando anche in maniera un po' spontanea sono nate delle manifestazioni musicali che hanno richiamato centinaia di migliaia di persone a volte il famoso Woodstock che era proprio no tre giorni di cosa di pace e musica caspita se non è diplomazia musicale questa cioè assieme stiamo utilizzando la musica per parlare al mondo e dire cosa non alla guerra in Vietnam in questo caso sia alla pace e questa dinamica nei decenni e fino a oggi ha anche fatto emergere tante opportunità del tipo aspetta un attimo se i musicisti sono in grado di richiamare a sé decine di migliaia a volte centinaia di migliaia e poi utilizzando ovviamente la diretta televisiva lo streaming milioni di persone se milioni di persone vogliono vedere un concerto possiamo utilizzare quell'opportunità per fare cosa per parlare alla comunità mondiale e dire loro signori mondo abbiamo un problema abbiamo un problema in Africa abbiamo un problema in Ucraina abbiamo un problema in Siria no? utilizzare il concerto la forza di un concerto per accendere un riflettore su un problema su una parte di un mondo e fare che cosa? due cose far crescere la consapevolezza di un problema abbiamo un problema in Ucraina ad esempio ma anche attivare un'azione aiutateci comunità mondiale aiutateci come ad esempio sostenete una campagna date un contributo economico quindi quelli che si chiamano no? benefit concert concerti ad esempio di beneficenza in cui si fanno due cose si parla di un problema si crea consapevolezza e in più si fa una raccolta fondi il famoso live aid dell'85 ma ce ne sono tanti altri chiudo e poi lascio qualche minuto a un mini dibattito è chiaro che quando tu sei su un palco e di fronte a una platea puoi sì parlare di un problema come live aid no? signori c'è un problema in quel caso era una carestia in mi sembra Etiopia non vorrei sbagliare quindi accendere il riflettore su quella carestia in Etiopia in più raccogliere dei fondi ma quando sei su un palco puoi anche creare consapevolezza in una maniera diversa ad esempio come fanno la famosa band iconica Pink Floyd in cui ogni loro concerto se volete è un po' un manifesto il famoso ad esempio The Wall cioè attraverso la performance la musica il concerto sbatto addosso al pubblico delle idee anche molto forti alle volte che ti servono a riflettere esci da quel concerto non solo che ti sei emozionato ma anche che hai riflettuto su alcuni grandi temi anche politici ok e alle volte questa è provocatoria ovviamente un artista può anche avere un atteggiamento davvero non solo di attivista ma quasi di combattente ripeto questa è una slide provocatoria apposta no di un componente di una famosa band americana Rage Against the Machine che no dal palcoscenico di fronte a una platea consapevole che parla se volete tra virgolette al mondo io sono contro il presidente del mio paese in questa fase e quindi è chiaro e torniamo e chiudiamo qui che un artista può nella dinamica del concerto ingaggiare non solo il pubblico che ha davanti ma soprattutto ormai attraverso i web i social può parlare al mondo quindi da quel palcoscenico può davvero diventare un leader un ambasciatore culturale della donazione culturale ma anche un vero e proprio leader culturale ed è interessante vedere chiudiamo qui nella parabola di alcuni grandi artisti come ormai anche se non cantano più anche se non sono diciamo più per lo più musicisti ma sono diventate delle figure di riferimento che in qualche modo le persone quantomeno conoscono a livello mondiale e spesso persone che ascoltano quasi come se stessi ascoltando un leader politico un rappresentante di una grande organizzazione internazionale ascolto un artista perché perché ho capito che mi posso fidare ho capito che c'è un impegno poi magari non sono d'accordo con quello che mi dice ci sta ma capisco che ha una sua come dire rilevanza all'interno del dibattito internazionale beh e ci fermiamo qui capite bene che insomma tutto questo ci fa comprendere come la musica non è semplicemente fatemi dire no divertimento emozione intrettenimento che sono tutte dimensioni bellissime fantastiche che ovviamente come dire devono essere principalmente quelle non sto dicendo che la musica deve diventare molto spesso no quando si parla di questo si rischia di dire no ma l'arte la musica non deve diventare politica non entriamo adesso in questo tema anche se capite bene quello che abbiamo di cui abbiamo parlato no c'è una dimensione politica ma c'è una dimensione più alta se volete no che ha a che fare proprio con l'interesse diciamo di mantenere una una dinamica pacifica di interazione tra popoli e nazioni la politica con la P maiuscola no secondo me se posso permettermi Paolo la differenza che stai cercando è tra partitica e politica allora chiaramente i musicisti sono cittadini quindi possono essere partitici una parte però una cosa è essere partitici una cosa è essere politici bravista grazie ma ti vedo un po' questo chiudo e lascio a voi anche rispondendo al messaggio di Daniela che faceva riferimento non ho fatto in tempo ma lo troverete nelle slide che vi manderò a un progetto importante di un'orchestra quindi ancora una volta una formazione musicale che mette insieme musicisti di aree che sono in conflitto come ad esempio Israele Palestina e la comunità araba no ancora una volta dimostrando che attraverso un progetto di cultura di educazione di arte di musica alcune barriere se non si eliminano del tutto ma si riducono e alcuni problemi si vedono una prospettiva diversa dove appaiono più facilmente risolvibili più affrontabili ecco tutto questo come capite sono tante dimensioni è la potenza della musica della cultura dell'arte che se diciamo proiettata verso alcune direzioni può diventare diplomazia culturale può diventare diplomazia musicale può diventare leadership culturale ecco io mi fermerei mi fermerei qui consapevole che vi ho trasferito in poco tempo tanti concetti anche complessi il mio voleva essere diciamo un pretesto per appunto darvi degli stimoli e avvicinarvi ad alcuni temi che credo sono molto affascinanti ma anche molto più concreti di quello che si pensa grazie Paolo e allora mentre intanto se ci sono delle domande il sistema è sempre lo stesso alzate la mano e c'è il pulsante in basso a destra dove c'è scritto reactions o per me in inglese non so se per me in inglese anche io volevo aggiungere due cose allora innanzitutto è interessante notare come cioè nel senso quello di cui ha parlato Paolo oggi è una cosa che si che viene fatta è stata fatta si sta facendo anche in maniera sempre di più anche sempre di più in queste recentemente diciamo però ecco per ricondurci a qualcosa che ha a che fare con con la fondazione De Gasperi e con De Gasperi come sapete De Gasperi subito dopo la seconda guerra mondiale stringerà degli accordi con Gruber che era l'allora leader politico del Sud Tirolo perché la situazione in Sud Tirolo aveva preso una piega particolarmente negativa dopo la seconda guerra mondiale cioè Sud Tirolo ripendicava determinate determinate autonomie e veniva da un periodo durante il fascismo in cui la popolazione di lingua tedesca era stata sottoposta a tutta una serie di vessazioni cambiare il cognome non parlare la lingua tedesca non praticare la cultura diciamo tirolese eccetera eccetera uno dei punti di implementazione degli accordi De Gasperi-Gruber era proprio lo sviluppo di iniziative culturali tra le popolazioni di etnia italiana e le popolazioni di etnia tirolese e questo ha aiutato nel processo questo è un altro caso che ha aiutato nel processo di ricostruzione di un tessuto sociale più unito è sicuramente quello di dell'Irlanda del Nord dove anche lì moltissime iniziative dal punto di vista culturale sia per far conoscere la cultura irlandese ai protestanti sia per far conoscere la cultura UK ai cattolici insomma sono state fatte tutta una serie di cose in questo senso e poi l'altra cosa che volevo dire quindi ecco per dire che c'è c'è anche c'è proprio una dimensione anche storica di questo di questo modo di andare a allenire i conflitti e se ci pensate parliamo di due esempi che in termini geopolitici sono un po' cose che vediamo ancora oggi perché il problema del Sud Tirolo come il problema dell'Irlanda del Nord sono due problemi tipici in Europa cioè quando non soltanto in Europa ma anche in Africa Medio Oriente cioè quando un sistema westfaliano dello Stato ingloba nel suo Stato un'entità che non fa parte a livello identitario necessariamente del resto dello Stato e quindi per andare a risolvere a smussare le questioni si ricorre al soft power e alla diplomazia culturale per andare a creare invece un sostrato culturale che che invece di creare conflitti lì pacifici lì pacifichi mi pacifici sono un po' confuso su questa cosa e mi perdonerete l'altra cosa che volevo dire che mi sembra molto importante però non vedo mani alzate qualcuno deve e qualcuno deve spegnere il microfono a meno che non sia per chiedere una domanda l'altra cosa che trovo molto interessante della presentazione di Paolo è questa cioè Paolo ha parlato di come la musica ci aiuta a ricostruire cittadinanza cioè ci aiuta a essere cittadini migliori perché ci rimette in un contesto sociale in un contesto dove si devono seguire delle regole in cui si deve vivere insieme si deve suonare insieme eccetera eccetera e questo io lo trovo fondamentale perché tanti problemi uno dei trend che non ho menzionato all'inizio di questa di questa piccola di questa sessione e che però rappresentano uno dei temi dominanti per quanto riguarda la geopolitica e la sicurezza a livello globale è anche chiaramente la crisi della democrazia cioè la crisi dei sistemi democratici e un esempio di questa crisi ce l'abbiamo con un cantante recentemente un famoso cantante americano che non ha proprio utilizzato bene questo suo palcoscenico e questo suo di rapporto di fiducia con i fan chiaramente inutile che ve lo dico è Kenny West che nelle ultime due settimane insomma ha dimostrato di avere dei grossi problemi mentali con cui chiaramente questo non è il problema ma il problema è quando quei grossi problemi mentali non li affronti come dovresti ma continui a scrivere degli stati su Twitter ma questo per dire che il vero problema oggi non è il problema della crisi della democrazia ma è la crisi della cittadinanza e quindi se c'è una crisi di cittadinanza e la musica ci aiuta a essere a renderci i cittadini migliori forse la musica ci può offrire anche una risposta alla crisi della cittadinanza e queste erano le due le due come dire suggestioni che volevo fare in chiusura di questa cosa vedo che però non ci sono domande ci sia qualcuno che ha applaudito e mi dispiace un po' di questa cosa ah eccoci vedi Federica bisogna prendere coraggio Federica presentati accendi la camera attiva buonasera sono una studentessa di scienze internazionali diplomatiche e ho apprezzato molto appunto tutte le riflessioni che sono emerse su questo punto di vista perché appunto mi interessa moltissimo il ruolo che la musica può avere anche appunto in politica e nella sicurezza globale infatti da questo punto di vista le riflessioni che stavate facendo mi hanno fatto pensare molto a come la musica il ruolo che la musica svolge nel favorire il dialogo può essere collegato anche molto agli studi sulla sicurezza in particolare critical security studies che vedono la sicurezza come un'emancipazione quindi come creazione di dialogo di un contesto di fiducia reciproca che può favorire appunto la sicurezza e quindi l'emancipazione dal bisogno di cercare sicurezza e quindi ho pensato anche come queste due cose queste discipline possono in qualche modo dialogare tra di loro e volevo appunto chiedere il parere appunto del signor Petrocelli e poi mi piacerebbe anche sapere il suo parere per quanto riguarda l'Unione Europea e il ruolo che può svolgere in questo ambito perché l'Unione Europea appunto viene vista come il simbolo della potenza normativa dell'esercizio del soft power e quindi le volevo chiedere appunto cosa ne pensa su come può agire in questo settore anche favorire nella sua dimensione esterna diciamo progetti che sviluppano diciamo vanno a sviluppare le competenze musicali e favorire il dialogo e riabilitare anche contesti disagiati come quelli di cui ci descriveva ci parlava poco anzi dove ti eri nascosta con queste domande meravigliose la tocca pianissimo Federica su due temi facilissimi le temi che proprio in chiusura si possono toccare rapidamente no ne approfitto per rispondere provare così a dare un veramente un input bellissimo a quello che chiedevi tu Federica agganciandomi anche a quello che diceva Mattia e ne approfitto per farvi vedere tre ultime slide che davvero non volevo non farvi vedere e quindi ritorniamo un attimino dal nostro caro John Lennon allora tu parlavi di anche una dinamica di sicurezza e Mattia parlava di come la musica crea comunità e cittadinanza beh mi piace prendere questo esempio vi ricorderete tutti avremmo visto avete visto questa foto del famoso Bad Dean di John Lennon con la compagna Yocono in cui che cosa fece ancora una volta John capendo quella che era la sua capacità di arrivare sui media di arrivare all'opinione pubblica mondiale invitò i giornalisti della stampa di tutto il mondo a dire seguitemi nel mio viaggio di nozze vi apro la porta della mia camera di albergo e però vi faccio vedere quello che noi facciamo e che cosa facciamo noi parliamo come artisti musicisti insieme ad altri artisti musicisti intellettuali politici giornalisti parliamo di cosa di come possiamo risolvere un problema del conflitto nel Vietnam quindi come possiamo noi promuovere una cultura della pace come possiamo farlo non solo noi dalla nostra camera d'albergo come musicisti come cittadini ma come possiamo ovviamente unire le forze con le diverse parti della società appunto con voi giornalisti l'informazione con altri intellettuali con l'opinione pubblica certamente ma anche con le istituzioni perché poi chiaramente lanciavano forti messaggi e guardate che cosa hanno fatto nel lanciare uno dei loro album un nuovo album di John e Yoko sapete no che dopo i Beatles John Lennon ha creato questa band con la sua compagna questo era il manifesto della pubblicità del suo album war is over e piccolino sotto c'è scritto if you want it quindi no ancora una volta la l'azione della musica nello scuotere le coscienze qui tra l'altro c'è una campagna di marketing straordinaria cioè che proprio ricordiamo stiamo nel mi sembra nel 69 o primi anni del 70 una roba geniale e l'hanno fatto uscire a ridosso di Natale vedete sotto è per Christmas da John e Yoko e guardate un po' hanno tappezzato tutte le principali capitali del mondo inclusa l'Italia con questi manifesti in cui dicevano la guerra è finita nel momento in cui tutti ovviamente erano scossi la guerra in Vietnam se tu lo vuoi se tu cittadino prendi una posizione se tu giovane associazione NGO se tu politico se tu governo prendi un'azione a favore della costruzione della pace la guerra è finita e questa cosa lo hanno fatta con una serie di brani posso dire una cosa Paolo questa è roba che salva l'anima a un paese perché in quel momento lì in America tanto per dare un contesto noi veniamo è l'America di Nixon ed è un'America estremamente violenta sul nella politica estera e militarista quasi ma allo stesso tempo è anche l'America dei grandi movimenti pacifisti eccetera eccetera e che stabilisce un primato in quel momento che poi setterà uno standard culturale che viene seguito da tutto il mondo e fa riflettere questa roba è proprio così io adesso vi lascio qui in chat non abbiamo il tempo purtroppo di ascoltarla insieme il link diciamo del singolo di questo album che promuovevano con lo slogan war is over sono sicuro che riconoscerete questa canzone perché è una canzone che tutti noi in maniera ricorrente ascoltiamo sotto il periodo di Natale perché è la famosa Merry Merry Christmas cantata da John Lennon ma se vi prendete questa sera dieci minuti per trovare online le lyrics il testo della canzone vedrete che quella non è una canzone che parla di Natale parla di come dobbiamo attivarci tutti noi per far sì che la guerra finisca e vedrete che in quel video ci sono tante immagini di manifestazioni del movimento pacifista americano di cui John Lennon era diventato un leader e vedrete che il coro che canta Merry Merry Christmas è un coro di giovanissimi bambini di colore di Harlem che appunto John aveva introdotto in questa canzone ancora una volta mettendo anche al centro cosa il tema dei diritti del razzismo quindi con un'operazione straordinaria di una canzone di Natale dimostrando ancora che era un genio se volete del music business del marketing lui ha venduto tra virgolette una canzone che arrivò ovunque ancora oggi arriva come una canzone di Natale che in realtà parla di pace di diritti e l'ha fatto come cantante ecco questa è la potenza ancora una volta della musica chiudo Federica per quanto riguarda l'Europa dico solo una cosa certamente c'è tutto il tema dei fondi dei finanziamenti europei alla cultura che sono secondo me uno degli straordinari strumenti messi a disposizione della comunità culturale e anche musicale europea per fare progetti assieme chiaramente questo significa cooperazione culturale a volte significa anche diplomazia culturale quindi certamente l'Unione Europea si sta sempre di più come dire preparando a facilitare questa cooperazione culturale che diventa lo capiamo bene sempre più fondamentale in un momento anche in cui molti diciamo dei valori fondanti punto di quella che Mattia diceva della comunità della cittadinanza anche europea si stanno in qualche modo mettendo un po' in discussione è chiaro che la cultura può fare da collante e può fare da facilitatore per quella cooperazione che non sempre è così scontata in altri settori va bene io penso che dobbiamo fermarci qui giusto Mattia quindi direi di sì grazie Federica ancora per la domanda mi sentirei di aggiungere una piccolissima cosa sull'Europa sull'Unione Europea sicuramente a livello interno quello che viene fatto è molto più sviluppato di quello che viene fatto esternamente cioè la maggior parte degli sforzi dell'Unione Europea in questo momento sono di interdialogo tra paesi tra nazioni europee quello che viene fatto verso l'esterno ha ancora bisogno di mettere una marcia in più va bene grazie Paolo sono contento che ci siamo allungati un po' mi dispiace se l'abbiamo fatto però è stato comunque interessante sono rimasti con noi ragazzi quindi tutto sommato l'hanno trovato interessante anche voi grazie Paolo buona in bocca al lupo per tutto e noi chiaramente rimarremo in contatto e ci fa piacere se rimani un amico della fondazione grazie a voi buon lavoro in bocca al lupo a tutti voi i partecipanti per questo bel programma e restiamo assolutamente in contatto grazie Mattia grazie a tutti alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti